Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'esperto di gossip Amedeo Venza ha recentemente condiviso una storia che ha scosso il mondo dello spettacolo italiano. Secondo una fonte anonima, un noto cantante e personaggio televisivo avrebbe espresso rimpianto per non essere stato invitato al matrimonio di Simona Ventura. Simona Ventura, celebre presentatrice con una carriera di successo in diverse reti televisive, ha sempre mantenuto ottimi rapporti con i colleghi. Tuttavia, sembra che Cristiano Malgioglio non sia stato incluso tra gli invitati al suo evento più importante. Il post di Venza ha rivelato il messaggio anonimo che affermava «Cristiano Malgioglio allo spettacolo a Cattolica ha appena detto che Simona Ventura non l'ha invitato al matrimonio. Non sono riuscita a fare il video dall'inizio». Anche se il nome del cantante non è stato esplicitamente menzionato, è facile intuire che si tratti del famoso artista siciliano. Al momento, non ci sono prove concrete per confermare o smentire queste voci e bisogna considerarle come semplici rumor. Tuttavia, la notizia ha suscitato scalpore tra i fan e i seguaci del mondo dello spettacolo, che si chiedono se ci sia stata davvero una mancanza di invito da parte di Simona Ventura a Cristiano Malgioglio. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e conferme su questa vicenda che ha acceso i riflettori sulle relazioni nel mondo dello spettacolo.